Sindaco, valorizzare il turismo è importante, è la prima voce che fa crescere il PIL. Che cosa si fa ad Assisi per valorizzare questo? Dal 1997 ad oggi, quindi dal periodo del post-sisma, abbiamo realizzato circa 4.000 interventi fra restauri, opere, infrastrutture, viabilità, sottopassi, parcheggi, spazi per eventi. Credo che il primo elemento importante per valorizzare una località dal punto di vista turistico è certamente le infrastrutture, i servizi, gli spazi per eventi. Il secondo elemento è curare l'accoglienza, il calore dell'accoglienza, l'emozionalità, il saper accogliere perché questo determina il passaparola, non solo fisico, ma oggi il passaparola diviene anche telematico, social multimediale e quindi diventa sempre più importante accogliere bene quelli che già arrivano perché questi parlando in maniera fisica ma anche social multimediale andranno a promuovere le nostre località. Assisi nel 2013 ha avuto una crescita del più 6% complessivo e questo ci ha determinato una ottima promozione che peraltro stiamo implementando anche con sostegno alle imprese turistico-ricettive non applicando la tassa di soggiorno e cercando di sostenere il comparto dal punto di vista della promozione degli eventi che peraltro hanno anche coinciso con un ampio sostegno con l'elezione recente di Papa Francesco.